Ciao, benvenuti in questo video. Oggi parliamo di serenità e leggerezza sono proprio sotto il tuo naso. Molto spesso uno pensa che la soluzione ad un problema che noi percepiamo sia lontana da noi. In realtà, se noi la viviamo costantemente, vuol dire che in realtà è molto vicina a noi, molto molto vicino a noi. Sai il problema? Che è la soluzione, perché se il problema lo viviamo noi, la soluzione forse è sempre dentro di noi. Quindi noi magari pensiamo che per sentirci sereni più leggeri dobbiamo andare a fare lezioni di yoga, dobbiamo andare a fare, non lo so, un'ora di meditazione, dobbiamo uscire, andare a farsi una serata, a ballare. In realtà, queste sono cose che assolutamente ci fanno stare molto bene, ci fanno divertire, ci fanno staccare la spina. Però è momentaneo. Se tu cerchi serenità e leggerezza a duratura, allora non puoi continuare a tamponare il problema risolvendolo con qualche ora, un'ora, qualche ora in cui tu stacchi la spina. Noi dobbiamo riuscire quindi a fare in modo che queste due emozioni, quindi serenità e leggerezza, siano presenti in modo più costante possibile nella nostra quotidianità, nella nostra vita. Quindi quello che dobbiamo andare ad analizzare sono tre aspetti che qua ti ho riportato. Dobbiamo andare a parlare di contesto, dobbiamo andare a parlare di ripetizione e dobbiamo andare a parlare anche di quantità. Il primo aspetto quindi è il contesto. Il primo contesto ad andare ad analizzare appunto è proprio l'ambiente in cui viviamo. L'ambiente in cui viviamo è l'ambiente in cui ne passiamo assolutamente più tempo, ma più che altro è l'ambiente in cui noi ci svegliamo e andiamo a dormire, dove comunque noi spendiamo del nostro tempo e dove tendiamo a noi proprio a volerci rilassare, a voler stare bene, in tranquillità. Quindi è l'ambiente in cui in assoluto noi cerchiamo, è l'ambiente in cui in assoluto noi cerchiamo serenità e leggerezza. E quindi dobbiamo proprio partire da questo, quindi partire dal nostro ambiente, dal primo contesto che è più vicino intimamente a noi e andare quindi a fare appunto un processo di riordino affinché noi andiamo a creare questo ambiente proprio in base a quelle che sono le sensazioni che tu vuoi vivere in questo ambiente. E quindi sarà un ambiente che più possibile dovrà appunto accogliere quelle che sono queste due emozioni, le sensazioni che sono appunto la serenità e la leggerezza, cosa che il disordine non dà. Quindi il primo aspetto è il contesto, quindi partire dal nostro ambiente e dall'ambiente in cui viviamo. Poi parliamo di quotidianità, quindi noi dobbiamo riuscire a rendere, una ripetizione dobbiamo creare di queste emozioni che noi ricerchiamo nella nostra quotidianità. Quindi già quando ci svegliamo, quando magari stiamo in casa nostra, quando mangiamo, quando poi magari, non so, ci riposiamo, andiamo a dormire. Qualse attività comunque che noi svolgiamo in casa nostra, nel tempo che noi passiamo in casa nostra, è cercare di fare in modo che quegli aspetti, quindi, siano sempre costellati da serenità e leggerezza. Cioè l'ambiente, il contesto, ma anche le ripetizioni che noi facciamo in quell'ambiente devono aiutarci a portare queste due emozioni a essere ripetute e replicate durante la nostra quotidianità, durante le nostre giornate. Quindi non è solo una volta a settimana quando vado a fare yoga, ok? Ma è tutte le volte che io sto in casa mia, quel tempo, quei momenti, percepisco serenità e leggerezza. Più noi ripetiamo, quindi può essere un per due, un per tre al giorno, poi un per cinque, ma già da zero al giorno, dal zero al giorno, passare a due al giorno è già tantissimo. Quindi l'obiettivo è partire da un contesto intimo, da un contesto vicino, andare a lavorare sulla quotidianità, cioè sulle ripetizioni quotidiane che noi possiamo portare senza tanti sforzi, già partendo dall'ambiente in cui viviamo e poi andare a lavorare su una percentuale, quindi fare in modo che noi portando quotidianamente questa serenità e leggerezza, noi andiamo ad aumentare il nostro tasso di emozioni comunque positive che ci fanno stare bene al punto che aumenteranno quel 60-80%, comunque 100% è difficile perché comunque non c'è la vita solo in casa nostra, ma dipende anche appunto da quello che viviamo fuori, quindi ci sta anche avere un 20% o 30% magari di negatività, però che viene poi soppiantato da quello che invece è la quantità di emozioni positive che noi abbiamo accumulato nel tempo e che hanno aumentato quindi la dose di emozioni positive, di serenità e leggerezza da quotidiana a essere poi mensile e poi a creare appunto una media anche annuale. Quindi è quella sensazione che quando tu ti guardi indietro ti senti appunto sereno e leggero, proprio perché la quantità che tu hai provato di queste sensazioni e di queste emozioni è stata talmente elevata che ha creato una disproporzione rispetto a quelle invece negative. Quindi se noi vogliamo vivere delle emozioni quindi positive, potenzianti, quelle che io chiamo emozioni di successo, quello che dobbiamo fare è andare a lavorare sul contesto più intimo e vicino a noi, andare a lavorare sulle ripetizioni e a creare una disproporzione fra quelle positive e quelle negative, calcolando che appunto quelle negative sono gli imprevisti, le persone esterne, quelle che sono appunto tutti quelli che vengono creati da rapporti comunque esterni che non dipendono da noi, non tutto dipende da noi, quindi su quello che dipende da noi facciamo il nostro lavoro, quello che non dipende da noi lo lasciamo in questo 20%. Quindi per riuscire a ottenere questo, quindi per partire appunto dall'ambiente e poi la vostra quotidianità e così via, dobbiamo appunto imparare a fare ordine. Per imparare a fare ordine quindi è necessario che tu conosca quali sono quindi i metodi, le informazioni necessarie per ottenerlo senza ansia, senza stress e in poco tempo. Ecco perché hai l'opportunità di partecipare al mio evento gratuito che si terrà mercoledì 10 novembre alle ore 21. Puoi registrarti cliccando il link che trovi in descrizione di questo video. Grazie a questo evento infatti ti sarà appunto spiegato quali sono i segreti nascosti dietro l'ordine duraturo e come ottenerlo senza ansia, senza stress e in poco tempo. Quello che quindi puoi fare in questo momento è già fissarti per memoria in vista dell'evento che appunto sarà domani sera e partecipare, ritagliarti un'ora del tuo tempo e soprattutto entrare nell'ottica di voler quindi ottenere quelle che sono le emozioni di successo, le emozioni potenzianti che tu desideri ottenere e implementarle una volta e per sempre nella tua vita. Io ti aspetto all'evento, noi ci vediamo domani sera. Ciao!